Pasta morti sul lavoro, presidio sindacale alla FAB dopo la tragedia di Simone Mezzolani Rinnovamento tecnologico per la sanità pesarese, ecco l'acceleratore per radioterapia Trovato con 65 grammi di cocaina, arrestato Puscher Afano Utopia, modello da esportare secondo il ministro per la disabilità Locatelli in visita a Pesaro Anche il ROF si fa più accessibile, nuove forme di fruizione degli spettacoli per i non vedenti Una buona serata a tutti voi più Il pubblico di Rossini TV ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News Telegiornale di mercoledì 29 maggio che apriamo anche questa sera occupandoci della tragedia di Simone Mezzolani Giovane, operaio di 33 anni, morto lunedì sera schiacciato da un macchinario industriale alla FAB di Petriano Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti sulle cause che hanno portato al decesso E' ripartita la mobilitazione sindacale nei confronti di una piaga sociale, quella delle morti sul lavoro Che ha già portato a tre decessi nelle Marche da inizio 2024 Una corona di fiori in ricordo di Simone Mezzolani all'ingresso della FAB Mattinata di dolore e riflessione al mobilificio di Gallo di Petriano Dove il 33enne residente ad Apsela di Montelabate lavorava da 5 anni E dove lunedì sera è morto a fine turno schiacciato fra un rullo trasportatore e un perno in acciaio Di un macchinario industriale sul quale stava lavorando A Gallo di Petriano è stata una mattinata di presidio di sindacati, colleghi e amici di Simone Al cospetto di quello che è stato il terzo incidente mortale sul lavoro nelle Marche da inizio 2024 Noi sono mesi che chiediamo alla prefettura di costituire questo tavolo su salute e sicurezza Al fine di prevenire episodi anche come questo che purtroppo si verificano E anche Pesaro non è diverso dal resto del paese Le morti sul lavoro purtroppo si ripetono quotidianamente Ed è diventata una sorta di patologia che in qualche modo bisogna che le istituzioni si impegnino a curare Al fianco dei presidi sindacali le indagini dell'ispettorato del lavoro Che sta cercando di accertare dinamiche ed eventuali responsabilità che hanno portato al decesso di Mezzolani Intanto la procura di Urbino ha aperto un fascicolo per ipotesi di reato di omicidio colposo La vicinanza di tutto il sindacato, di tutto il sindacato unito alla famiglia Che purtroppo vive questa tragedia Non dimentichiamo mai che le famiglie sono quelle che subiscono il peso maggiore di questo evento in Fausto Poi ecco, vogliamo essere presenti per farci vedere che il sindacato non dimentica E non è che quando non ci si vede abbiamo abbassato la guardia Noi continuiamo a trattare e insistiamo che l'autorità di aprire tavoli continui sul discorso della sicurezza In Italia dal punto di vista legislativo c'è tutto Le leggi ci sono, gli strumenti anche democratici di rappresentanza dei laboratori ci sono Bisogna applicarli, noi dobbiamo chiedere ai laboratori di svegliarsi e prendersi cura Come dice il decreto 81 della propria sicurezza Ma non basta perché dall'altra parte ci sono i datori di lavoro Ai quali bisogna fargli capire, bisogna controllare, essere sul territorio azienda per azienda E vedere in che modo applicano la sicurezza Deve essere una cultura generale, dall'ultimo fino al primo della catena gelarchica Noi vorremmo fare un protocollo con le associazioni dei datori di lavoro E con le istituzioni preposte a questi temi A partire dall'Asta, all'Ispettorato del Lavoro, IMSI, INAI A fine di fare delle azioni concrete in un tempo dato Per cercare di migliorare le situazioni Per verificare come sono le questioni di salute e sicurezza declinate dentro le aziende Dandoci appunto degli obiettivi comuni E ci stiamo dentro anche noi Ovviamente sulla parte della cultura della sicurezza Tra i lavoratori, nei luoghi di lavoro Noi potremmo fare un grande lavoro insieme Però occorre una regia, occorre un tavolo Occorre un'istituzione riconosciuta da tutti Che abbia la capacità di mettere insieme tutte queste istituzioni e questi soggetti Cambiamo argomento e parliamo di sanità E lo facciamo con i nuovi passi tecnologici a supporto delle strutture ospedaliere pesaresi Ieri ci siamo occupati di nuove tecniche applicate al San Salvatore sugli espianti di organi Oggi andiamo a scoprire altre innovazioni al servizio del presidio ospedaliero di Muraglia Salto di qualità nella tecnologia ospedaliera Salto di quantità nello snellimento delle liste d'attesa Per l'azienda sanitaria di Peso Urbino Che oggi ha presentato il nuovo acceleratore lineare Che da gennaio è entrato in funzione nel reparto di radioterapia del presidio ospedaliero di Muraglia Si tratta del primo macchinario del genere acquistato dalla regione Marche con fondi PNRR Attraverso un investimento di 2.700.000 euro Presentato oggi dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini E dal presidente della commissione sanità Nicola Baiocchi Assieme a dirigenti e medici dell'AST Un investimento che si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento tecnologico È una macchina moderna, performante In grado di fare le principali e moderne tecniche per i trattamenti radioterapici in ambito oncologico In grado di fare trattamenti stereotastici, trattamenti conformazionali e anche trattamenti volumetrici La macchina è molto rapida nell'effettuare i trattamenti Abbiamo già trattato da gennaio 2024 circa 220 pazienti Sommando poi l'attività dell'altro acceleratore gemello siamo quasi a 500 nuovi inizi di trattamento dall'inizio dell'anno Quindi se tutto va bene per fine anno dovremmo avvicinarci al migliaio di nuovi trattamenti L'obiettivo è anche garantire la cura a più persone possibili Perché comunque le liste d'attesa sono piene Abbiamo proprio necessità di trattare bene il più persone possibili L'acceleratore consente dunque riduzione dei tempi di erogazione della radioterapia Diminuzione del numero di sedute e minori effetti collaterali per il paziente Siamo di fronte al progetto tecnologicamente più complesso di tutta l'AST Macchine all'avanguardia, sistemi informativi all'avanguardia Tempi di risposta ai pazienti direi veramente buoni Quindi pensiamo di poter dare una risposta ai malati oncologici rapida e anche confortevole ed efficace I pazienti possono essere trattati in tempi brevi Non c'è quasi per niente interruzione di trattamento in seguito a guasti della macchina Anche perché abbiamo costruito un sistema che prevede due acceleratori lineari identici Con possibilità di passaggio dei pazienti da una parte all'altra Il progetto è stato portato a termine in tempi anche questi da record Perché sei mesi dalla preparazione di un intero cantiere Quindi lavori strutturali e impiantistici al trattamento del primo paziente Sono veramente un caso raro La conferenza stampa è stata anche una delle prime uscite pubbliche Del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese Alberto Carelli Che nell'occasione ha ribadito al pari dell'assessore Saltamartini Come il nuovo macchinario si inserisca in un più ampio processo di rinnovamento tecnologico spedaliero Nella sanità provinciale Si inserisce in un piano molto più vasto Abbiamo circa 9 milioni che ci sono stati assegnati dalla regione Marche Per i finanziamenti dell'attrezzatura E dovremo terminare tutte le procedure entro il 31-12-2024 Abbiamo terminato adesso i lavori di adeguamento dell'attacca a Pesaro L'attacca è in fase di consegna E cominceremo la prossima settimana i lavori per la risonanza magnetica Per una nuova risonanza che andrà ad aggiungersi a quella che già abbiamo Siamo soddisfatti e cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi Oggi nelle tribunale di Pesaro Altra udienza del processo a carico di Mostafa Alasceri Egiziano accusato di omicidio volontario della moglie Anastasia Afano il 13 novembre 2022 L'uomo rischia l'ergastolo dopo l'accusa di aver ucciso la 23enne Ucraina Con 29 coltellate e averne occultato il cadavere Oggi il tribunale di Pesaro ha fissato la sentenza del processo per il prossimo 24 settembre Polizia che ha invece arrestato a Fano ieri un 23enne albanese Per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale Gli agenti avevano infatti notato la presenza di un'autovettura sospetta E l'autista solo a bordo del veicolo ha tentato la fuga collidendo con le due auto dei poliziotti Prima di essere bloccato e poi trovato in possesso di 5 grammi di cocaina Suddivisi in altrettante dosi La successiva perquisizione nella camera d'hotel riconducibile all'arrestato Ha permesso di rinvenire altri 60 grammi di cocaina Oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi E 1.300 euro in contanti ritenuti proventi di spaccio Ieri è stato convalidato il provvedimento d'arresto Giornata nelle Marche per il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli Che all'ora di pranzo ha anche visitato il progetto della Trattoria Sociale Utopia del Parco Miralfiore Prima a Fano e poi a Pesero Il Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli Ha incontrato oggi alcune delle principali realtà del terzo settore del territorio Confluendo poi a pranzo la Trattoria Sociale del Parco Miralfiore Utopia Progetto di inserimento lavorativo inclusivo Che rientra a pieno titolo nelle politiche del progetto di vita del Ministro Che punta a cambiare lo sguardo sul mondo della disabilità Io credo che davvero ci sia l'opportunità di valorizzare i ragazzi e le ragazze Che qua a Udutepia portano la loro esperienza Ma testimoniano anche che si può fare Poco fa una ragazza mi ha detto Io da cinque mesi sono qua e per me adesso è tutto più bello Io sono più contenta e mi sento anche insomma utile in qualche modo Quindi questo è quello che noi dobbiamo portare avanti anche con questa riforma importante Attraverso il progetto di vita far passare dal tema dell'assistenzialismo Alla valorizzazione delle persone e qua oggi vediamo questo In tutta Italia incontro realtà associative e veramente dei progetti meravigliosi Dove i ragazzi con disabilità insieme al mondo associativo, al mondo del terzo settore Spesso anche delle istituzioni realizzano attività ricreative, sportive e a volte lavorative importanti Ne testimonieremo di queste realtà anche prossimamente tra pochi giorni all'ONU Perché andremo lì con un tema importante che è proprio quello delle capacità e dei talenti nella ristorazione italiana Progetto Utopia che per il Ministro è senz'altro un modello esportabile e moltiplicabile Credo proprio di sì, l'importante è anche che si trovino anche nei territori la disponibilità Le persone disponibili a fare rette in questo modo, a fare squadra Lo dicevamo prima, cioè da soli non si va da nessuna parte Però se ognuno mette un pezzetto, chi sulla formazione, chi sul percorso di affiancamento Perché qua ci sono anche tanti giovani volontari che arrivano dalle scuole alberghiere Ecco, diventa veramente un bel modello che può essere testimoniato in tutta Italia certamente Sul tavolo della discussione anche l'eventualità di estensione della legge Comencini Stiamo lavorando perché ogni persona con disabilità possa avere la possibilità di lavorare Avere una dimensione abitativa conciliata con la vita quotidiana In base alle proprie competenze, alle proprie caratteristiche, alle proprie potenzialità E questo lo stiamo facendo anche studiando all'interno di questo modello Che uscirà con un bando all'inizio del 2025 Alcune possibilità di deroga sulla parte che riguarda la rendicontazione Che riguarda i limiti di reddito Che riguarda anche l'invalidità civile Ecco, bisogna lavorare in questa direzione Anche perché la burocrazia spesso poi ci tiene ostaggi di alcune cose Invece noi vogliamo testimoniare sempre di più Quanto le nostre comunità possono crescere ed essere coese Se non lasciamo indietro nessuno Dall'inclusione nel mondo del lavoro All'inclusione nella fruizione degli spettacoli Va in questo senso il nuovo progetto delle Rossini Opera Festival Che andiamo a scoprire in questo servizio Nasce un nuovo progetto di accessibilità agli spettacoli In sinergia fra Rossini Opera Festival e l'Unione Italiana Cechi Ipovedenti Il progetto presentato questa mattina Allo scopo di consentire l'accesso agli spettacoli del festival Alla comunità dei non vedenti Attraverso audio introduzioni ed inserti realizzati per l'occasione Da personale specializzato e diffusi nel corso dello spettacolo Attraverso mini apparecchi radio dotati di cuffie Partiamo con un progetto di accessibilità E quindi le persone con disabilità visiva Che saranno al festival potranno usufruire di un'audiodescrizione Quindi avranno delle radioline Una piccola cuffia con una radiolina E in questa cuffia saranno inviati degli inserti Che una voce professionale In cui una voce professionale spiegherà che cosa sta succedendo Sul palco mentre la musica è silente Si inizierà con una descrizione completa della scenografia E degli aspetti scenografici e anche dello spirito della regia Perché spesso chi non vede non riesce chiaramente a cogliere subito Che cosa il regista vuole proporre E quindi quest'audiodescrizione che sarà concordata durante le prove con il regista Darà la possibilità a chi non vede Di avere un sguardo più completo e più significativo su tutta l'opera Il festival ha da qualche anno sviluppato una notevole sensibilità A temi diciamo così extra musicali Che vanno al di là del nostro principale compito istituzionale Che è quello della restituzione della tradizione e della musica di Rossini Abbiamo iniziato a guardarci intorno In qualche modo avendo come riferimento i punti, gli obiettivi dell'Agenda 2030 Da tre anni siamo un festival certificato per quanto riguarda la sostenibilità ambientale E oggi abbiamo allargato questo tema anche a quello dell'inclusività È un festival sempre più inclusivo Che ha a cuore la possibilità di rendere accessibili i propri spazi I propri spettacoli anche a delle comunità di persone che hanno delle difficoltà E con questa iniziativa di oggi segniamo un passo importante Rendendo e facilitando l'accesso ai nostri spettacoli Le persone ipovedenti e cieche Nel tema dell'inclusività c'è anche la grande attenzione Che abbiamo rivolto soprattutto quest'anno Anche la politica dei prezzi Quindi essere inclusivi anche cercando di trovare tariffe agevolate Soprattutto per i giovani e i giovanissimi Che trovano l'opportunità di venire a condizioni di favore al nostro festival Penso che il dovere verso i non vedenti sia importante Perché alla fine l'importante per me almeno è sentire l'opera Sentire i cantanti, sentire la musica, l'orchestra E noi ci mettiamo un grosso grosso impegno nel trovare la edizione migliore Per cui sono convinto che questa iniziativa avrà molto successo E logicamente negli anni si svilupperà ancora di più Da domani nel Parco Scarpellini di Muraglia Torna per quattro giorni la Fiera regionale del Riuso Un consolidato modello di economia circolare Che andiamo ad approfondire nel prossimo servizio Dal 30 maggio al 2 giugno il Parco Scarpellini di Muraglia Torna ad essere terreno fertile per l'economia circolare Della Fiera regionale del Riuso La rassegna da nove anni ideata e promossa dalla Onlus Gulliver È pronta nuovamente ad allestire decine di stand dedicati agli oggetti usati Pronti ad entrare in un proficuo circolo virtuoso di riutilizzo Con gli oggetti di ogni genere Da una lampada, un ferro da stiro Quello che comunque il cittadino pesarese può avere in una soffitta È un modo di convivialità Perché comunque qui le famiglie vengono Stanno con i bambini e anche i bambini possono fare il mercatino del Riuso Quindi anche loro dal Natale Non vi nascondo che preparano la loro borsa Con tutti i giochi che non usano più Con la speranza di darli o di scambiarli con altri bambini Quindi vedere la novità Ma più che altro fare gruppo Ecco, il senso della Fiera del Riuso Non è tanto comprare l'oggetto o scambiare l'oggetto Ma è proprio il senso di stare insieme Di stare in pace tre giorni in un parco bellissimo Come è il parco Scarpellini Non solo un mercato del Riuso Ma quattro giorni di costante intrattenimento Sport, spettacoli e approfondimenti dedicati alla riflessione Presenza di scuole con i canti Conferenze, band Momenti diciamo di musica folcloristica Avremo una commedia dialettale Ma soprattutto faremo una sfilata con gli abiti del Riuso Cerchiamo di seminare, contagiare questo senso di volontariato Che comunque, oggi come oggi, è fondamentale Perché il volontariato non è perdita di tempo Anzi, è guardare oltre il nostro orto Perché i bisogni sono tanti E molte volte, oltre che il bisogno materiale Ci bisogna anche di un conforto, di una parola Di essere presenti nel momento del bisogno Dove vanno a finire le monetine lanciate nelle fontane A Pesaro diventano uno strumento salvavita Il Comune ha infatti donato le monetine gettate nelle fontane cittadine Al Comitato Croce Rossa di Pesaro Che a sua volta le ha trasformate in un defibrillatore automatico esterno Che è un presidio salvavito in caso di arresto cardiaco improvviso Il defibrillatore in questione sarà installato a bordo Di una delle pattuglie della polizia locale Il Leo Club Pesaro è l'associazione giovanile dei Lions Club L'associazione ogni giorno per Emma Onlus Scendono in campo per sensibilizzare i cittadini alla tassia di Friedrich Rara malattia neurologica degenerativa con una raccolta fondi E il convegno dal titolo Conosciamo la tassia di Friedrich Convegno che si terrà venerdì 31 maggio alle 17 All'hotel Baia Flaminia I relatori saranno la socia del Leo Club Pesaro Giorgia Righi che porterà la propria testimonianza anche come protagonista del film Ispirata alla sua vita Ancora volano le farfalle E del suo libro Vivere volando Assieme a Giorgia Righi Annalisa Bertazzon Presidente dell'associazione ogni giorno per Emma Onlus E la dottoressa Serena Gennaro Della neurologia pesarese e fanese L'ingresso sarà con un'offerta minima di 13 euro Il cui ricavato sarà devoluto all'associazione ogni giorno per Emma E non si ferma anche la solidarietà di Hauser Volontariato Pantano Sabato 1 giugno alle 17 Alla caffetteria del Borgo di Largopilo Verranno infatti consegnati 5 buoni A 5 importanti realtà associative della città di Pesaro Valladire Aias Pesaro Centro Italiano di Solidarietà Ceis Braccia Aperte Volontariato Isaia Volontari in Carcere E Associazione Genia Che la nova ha inaugurato ieri la seconda edizione di Kellogg's Better Days Con la presentazione del nuovo riqualificato campetto da basket di Soria di Via Lucio Accio L'iniziativa che l'anno scorso ha coinvolto Milano e Reggio Emilia Quest'anno raggiunge anche Pesaro come prima di 5 città Che toccheranno anche Torino, Brindisi, Roma e Milano Un'opera di riqualificazione e futura manutenzione del campo da basket Che ieri è stata applaudita da testimonial d'eccezione Quali Giorgia Sottana, ex capitana della Nazionale Femminile E Giulio Maria Papi, azzurro della Nazionale Basket in Carrozzina Si chiama Portale delle Memorie La mostra in corso a Palazzo Ducale di Pesaro Che andiamo a scoprire nel servizio di chiusura del nostro telegiornale Un viaggio nella memoria storica della provincia di Pesaro Urbino Dal risorgimento fino alla nascita della Repubblica Fino al 2 giugno a Palazzo Ducale di Pesaro Si può visitare la mostra Portale delle Memorie Un'esposizione proposta per la seconda edizione Dall'Istituto del Nastro Azzurro di Pesaro Urbino Giunge quest'anno alla sua seconda edizione La prima edizione è stata nel novembre del 2023 Ha avuto un grosso successo Perciò abbiamo deciso di rieditare la mostra con contenuti nuovi È una mostra che riguarda il periodo storico Che va dal risorgimento fino ai giorni nostri Degli accadimenti, delle persone, delle famiglie Della provincia di Pesaro Urbino La mostra non è fine a se stessa Ma promuove un progetto che abbiamo istituito dal Nastro Azzurro Che si chiama Portale delle Memorie Il progetto fa sì che in un sito internet In alcune pagine Facebook E in un portale Instagram che abbiamo istituito Possano essere raccolti e divulgati Testimonianze, racconti, esperienze di persone Della provincia di Pesaro Urbino Che hanno avuto parenti che hanno combattuto O che sono stati testimoni di eventi Durante gli eventi bellici Che hanno coinvolto la nostra provincia Lo scopo è raccogliere queste memorie Che normalmente sono nei cassetti, nelle soffitte Dove ci sono documenti, testimonianze O persone che hanno ricordi Raccoglierli e far sì che vengano conservati nel tempo E possano essere usufruibili per tutti E parte di questi ricordi, parte di queste testimonianze Le potrete trovare qui nella mostra Che ha due percorsi Uno storico, cioè che riguarda le vicissitudini Da risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale Sempre però focalizzati sugli accadimenti Della nostra provincia, della nostra regione E' un percorso emozionale Che riguarda una parte di tutti quei racconti Tutte quelle testimonianze Tutte quelle documentazioni Che abbiamo raccolto fino adesso C'è un tabellone che riguarda L'escursus storico che ha avuto la nostra bandiera E sono esposte alcune bandiere Originali, importanti Come quella del 1860 Che è stata esposta a Palazzo Vattielli Quando sono entrati i piemontesi a Pesaro Oppure la bandiera di guerra Che nel 1958 è stata donata Al 28esimo reggimento Pavia La mostra è promossa Dall'Istituto Nostra Azzur Ma ha avuto la grossa collaborazione Di Asso Arma Che tramite anche le altre associazioni Combattentistiche d'arma Ci hanno permesso di poter effettuare Questo bel evento Sponsor del progetto è la società Netco ADV di Pesaro Quest'anno la mostra è stata preceduta Dalla premiazione Di un concorso Avente nome omonimo Cioè Portale delle Memorie Che abbiamo istituito con le scuole A cui hanno partecipato Scuole della provincia di Pesaro Rubino Che ha visto vincitrice poi L'Istituto Cecchi È iniziata l'inaugurazione Il 24 maggio E avrà termine il 2 giugno L'invito è quello di contattarci Tramite il nostro portale Ci sono tutti gli indirizzi A cui possiamo essere raggiunti Per far sì che chi avesse testimonianze Voglia di raccontare documenti Di parenti Della propria famiglia O se è stato testimone Di accadimenti particolari Durante i vari conflitti Che ci sono succeduti Eviti che questi ricordi Questi documenti Vadano dispersi nel nulla E non vengano più Conosciuti da nessuno E si conclude qui Questa nostra edizione Del telegiornale Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo Gli appuntamenti Sulla nostra emittente A cominciare da quello Che arriva subito dopo Il TG Ovvero il magazine La natura della cultura Questo spazio di approfondimenti Dedicati ai tanti eventi E appuntamenti Di Pesaro Capitale della Cultura 2024 Appuntamento alle 20 Così come alle 8 E alle 13 Di ogni mercoledì Ma anche di ogni lunedì E venerdì E poi il riassunto Delle tre puntate settimanali Il sabato alle 12 Alle 19 E la domenica Alle 15 E alle 21 Ci siamo occupati Di disabilità In questo TG Lo faremo anche Alle 21 E 20 Con Abbattiamo le barriere Una legge Per il diritto Allo svago Questo nostro Speciale di approfondimento Condotto Da Antonio Astuti E poi vi ricordo L'appuntamento Con l'informazione Di Rossini TV Che torna puntuale Domattina in diretta Alle 7 E 20 Con Buongiorno Rossini La segna stampa Dei quotidiani locali Del giovedì 30 di maggio Che sarà condotta Dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Ed è invece tutto Per questa edizione Informativa Di Rossini News Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei programmi Di Rossini TV Per averci seguito Grazie a tutti Per averci seguito